Il mio nome è Georg Reuter Fischer. Sono nato nel 1912 da genitori di origine svizzera, nella città di Louisville, Kentucky, e alla nascita avevo un piede torto verso l'interno, il destro. Difetto che si sarebbe potuto correggere con un'ingessatura, se mio padre non fosse stato contrario a interferire con l'operato della natura, la sua divinità. Mio padre era un muratore e tagliatore di pietre, aveva immensa forza fisica, grande energia, notevolissime doti intuitive, era un rabdomante capace di trovare acqua, petrolio e anche minerali, ed era dotato di un grande gusto artistico naturale, eppur non avendo mai seguito studi regolari, possedeva un'istruzione.